Nell'89 è caduto il muro di Berlino. Prima esisteva un mondo che era un mondo verticale. Era un mondo dove c'erano due blocchi divisi da un muro, due blocchi apparentemente molto distanti da di loro, il blocco comunista e il blocco capitalista. E all'interno di questi due blocchi c'era una divisione anch'essa verticale tra tanti stati. Ogni stato era un mondo, un mondo quasi separato dall'altro. Però come accade sempre nelle condizioni in cui ci sono due soggetti che in qualche modo convivono, perché poi questo era stato per 50 anni questo mondo diviso in due ha convissuto pur facendosi la guerra. Anche in questi casi alla fine i due soggetti in qualche modo incominciano a somigliarsi l'uno all'altro, cioè ciascuno incomincia a prendere qualcosa dell'altro. E avevamo una situazione in cui c'era un mondo comunista, in cui si stavano realtà, come per esempio la realtà jugoslava o quella rumena, in cui c'era una forma di capitalismo. E c'era un mondo capitalista in cui c'erano paesi come la Svezia, che era un paese, io direi un paese socialista con una spruzzata di capitalismo, ma c'erano paesi, anche come l'Italia per esempio, che era un paese anomalo, un paese sì capitalista ma anche molto socialista. Insomma, l'Italia aveva un sistema economico in cui lo Stato era l'attore principale. Tutte le banche erano pubbliche dello Stato. La più grande azienda d'Italia era statale, non era la Fiat, ma era Liri, che era una vera prova multinazionale e addirittura negli anni 80 era la settima più grande azienda del pianeta. Negli Stati Uniti fino ai primi anni 70 la sanità era pubblica, c'era sì la sanità privata, ma tutti godevano della sanità pubblica. La tassazione più elevata, quindi dei più ricchi, arrivava fino al 92% di tasse sul reddito, che è una cosa mostruosa. Oggi non sarebbe pensabile nemmeno in un paese parasocialista una tassa così alta per i più ricchi, eppure erano gli Stati Uniti d'America. Allora questo mondo improvvisamente è sparito. L'ideologia che ha sostituito entrambe le ideologie precedenti era quella neoliberista, che è arrivata e ha occupato tutti gli spazi possibili e immaginabili. Ha occupato gli spazi della cultura, ha occupato gli spazi istruzioni. Quasi tutte le università che contano ha occupato l'economia, ha occupato la politica. E questo ha fatto sì che improvvisamente la politica, oltre a mutuare questa ideologia, tirasse dentro i campioni del neoliberismo all'interno dei propri templi, cioè dei governi. A partire agli anni 90, peraltro che sono stati anni in cui la sinistra in tutto quanto l'Occidente ha preso il potere, insomma in Italia, in Francia, in Germania, in Inghilterra, negli Stati Uniti, in Spagna e così via. A un certo punto questa sinistra ha preso il potere, che è stata diciamo completamente ammaliata da l'ideologia che aveva combattuto fino a pochi anni prima, c'era l'anticristo fino a pochi anni prima, invece improvvisamente ha fatto propria questa ideologia. Ha tirato dentro i governi i campioni del neoliberismo, cioè i banchieri. Ha privatizzato le banche, ha fatto delle banche il centro di quel mondo, il centro del nostro mondo di oggi, e ha a quel punto preso dei banchieri e li ha messi, dei banchieri o dei gestori di finanza, e li ha messi a gestire l'economia. Cioè i ministri dell'economia di tutti i paesi occidentali improvvisamente sono diventati questo tipo di soggetti. Il neoliberismo vive di, come tutte le religioni, vive di dogmi, vive di narrazioni, di favolette, di parabole, eccetera, eccetera. Allora uno di quelli che ci ha raccontato è che bisogna assolutamente cercare degli investitori, investitori stranieri, perché c'è bisogno di trovare investitori stranieri, è una necessità. Poi alla fine che cosa sono questi investitori stranieri? Sono aziende? Ogni tanto, raramente. La stragrande maggioranza dei casi sono state banche, o fondi di investimento, o banche o fondi di investimento, che poi alla fine sono la stessa cosa, perché come scoprirete adesso, le banche sono di proprietà dei fondi di investimento. E i fondi di investimento sono una cosa, sono una strana creatura, cioè una creatura che si nutre dei nostri soldi, perché i fondi di investimento prendono i soldi, soldi veri, non si tratta di società finanziaria che chissà che cosa fanno in borsa, strane cose in borsa, no. I fondi di investimento prendono i nostri soldi, i soldi dai nostri conti in banca, i soldi che noi utilizziamo per comprare delle polizze assicurative, i soldi che noi mettiamo da parte per la pensione, se sono pensioni integrative, o in altri paesi, i fondi pensionistici di altri paesi, quindi soldi veri, prendono tutti quanti questi soldi e li rinvestono comprando cose. E comprano cose per fare, questo sì, per fare profitto. Prendono aziende, le spolpano, le dividono, abbassano i salari, licenze ai lavoratori, deglocalizzano, come è successo alla Pernigotti recentemente, che è uno dei marchi italiani più prestigiosi, non esiste più, sta chiusa. È stata comprata da un'azienda turca, di proprietà di un fondo di investimento statunitense, che l'ha semplicemente chiusa, ma non perché nessuno si comprava i Pernigotti, perché non facevano più soldi chiudendola e spostandola da un'altra parte. Ci sono tre fondi di investimento, che si chiamano BlackRock, Vanguard e State Street, State Street. Tutte e tre statunitensi. Questi tre fondi di investimento insieme è stato calcolato che nel 2021 gestiranno una massa di denaro, denaro vero, non denaro farlocco della finanza, denaro vero, pari a 25 mila miliardi di euro. 25 mila miliardi di euro. Tre tre aziende, tre società e un terzo dell'intero reddito del pianeta. Tre società. E aggiungo un'altra cosa. I principali azionisti di BlackRock sono Vanguard e State Street. I principali azionisti di Vanguard sono State Street e BlackRock. I principali azionisti di State Street sono Vanguard e BlackRock. E' come Dio unettrino. Questa unica società, che poi sono tre, tra meno di due anni, avrà la proprietà di un terzo dell'intero pianeta. Grazie a tutti.